Terre di Sicilia 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 è realizzato in 40 tinte, disponibili in tre varianti di colore, che consentono una scelta complessiva tra 120 tonalità diverse. Ogni tinta ha tre intensità di colore. La più chiara si ottiene mescolando alla base un solo vasetto di toner. Il tono intermedio si ottiene utilizzando due vasetti di toner. Il tono più intenso invece si ottiene mescolando alla base quattro vasetti di toner. Agitare il vasetto con il toner. Versare il contenuto fino al suo completo svuotamento. Mescolare fino a conferire omogeneità al prodotto. Trascorse sei ore per l'asciugamento del fondo specifico precedentemente applicato, con uno spalter applicare Terre di Sicilia diluita al 10%, incrociando le pennellate in modo irregolare. Dopo 30 minuti circa, adagiare su tutta la superficie il vasetto. La speciale spatola in plastica, per completare l'effetto desiderato.